Benvenuti all'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle, bentornato anche all'onorevole Raffaele Nevi di Forza Italia. Ripartirei dal Ministro degli Esteri che ha detto che non abbiamo il potere per riportare un detenuto dall'estero in Italia, ma possiamo protestare attraverso le forme istituzionali e le dichiarazioni pubbliche. Allora, visto che siete qui, vi invito a dire la vostra sulle immagini che abbiamo visto di Laria Salis, portata nell'aula di tribunale con le manette a mani e piedi, noi insomma abbiamo coperto l'immagine del dettaglio, però sono immagini comunque forti. Onorevole, parto da lei. Sono immagini forti e abbiamo chiesto per questo un'informativa urgente proprio alla Presidente del Consiglio Meloni, perché abbiamo Laria Salis, questa ragazza italiana che starebbe subendo delle violazioni dei diritti umani, l'abbiamo vista in catene in Ungheria, in prigione, e i patrioti al governo intervengono ovviamente con colpevole ritardo, perché abbiamo la Presidente del Consiglio Meloni che ad oggi non ha detto una parola sul caso. Il Ministro Lollobrigida che dice di non aver visto le immagini, probabilmente era impegnato... Ci risulta, come dicevamo, che c'è stata una telefonata stasera con il... Sì, 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 però ovviamente il ritardo è sotto gli occhi di tutti. Da 11 mesi è detenuta questa ragazza, la telefonata arriva solo oggi. Il Ministro Lollobrigida, dicevo, probabilmente è impegnato a fermare qualche treno, che non ha visto le immagini e la cosa più grave però credo che sia la posizione, anzi le dichiarazioni del Ministro Tagliani che ha detto che fino a ieri di questa vicenda non ne sapeva praticamente nulla. Allora, il Ministro Lollobrigida qui non c'è, quindi non possiamo farlo replicare. Gli ambasciatori non hanno informato il Ministro Tagliani, questo sarebbe gravissimo ovviamente. Che notizie abbiamo? Le notizie sono che il Governo sta lavorando ai massimi livelli, c'è stata anche oggi questa telefonata. Io capisco che il 5 Stelle era abituato a parlare che a risolvere problemi. Noi stiamo cercando di risolvere il problema e stiamo cercando di fare quello che è possibile fare, cioè invocare il rispetto del diritto internazionale. Lo voglio sottolineare, non è che il Governo italiano ha il potere, né il Governo ungherese ha il potere di far rientrare la Salis. La Salis ha commesso, secondo le autorità ungheresi, un reato in Ungheria e quindi deve rispondere attraverso un processo in Ungheria. Ma abbiamo fatto di più, abbiamo suggerito ai legali di chiedere gli arresti domiciliari perché una volta che fosse consentito l'arresto domiciliare in Ungheria a quel punto può tornare in Italia e scontare l'arresto ai domiciliari in Italia. Quindi mi pare siamo impegnati al massimo, ho sentito il Ministro Tairiani pochi minuti fa, mi ha ragguagliato addirittura della telefonata della Meloni al Ministro Orban, assolutamente no, nel senso la situazione è questa qua, il Governo è impegnato ai massimi livelli, domani ci sarà, da quello che so, l'informativa del Ministro Nordio al Senato, insomma mi pare che sia l'ennesimo polverone dell'opposizione. Mi scusi dottoressa, se ne sono accorti ieri, dopo 11 mesi, a me sembra questo veramente disarmante. Anche voi però, anche voi. No, no, noi da diverse settimane, intanto magari vi invitiamo a leggere i giornali perché se ne parla da mesi sui giornali, diverse settimane fa noi abbiamo depositato anche un'interrogazione in Parlamento, evidentemente non avete letto questo, gli ambasciatori, voglio sottolineare questo, gli ambasciatori hanno partecipato a ben quattro udienze perché quella di ieri era la quarta udienza come ha riferito anche il padre della ragazza e quindi stento a credere che il Ministro non abbia avuto informazioni su questo, ma vorrei fare un passaggio perché io credo che sia tutto qui. Cioè a me viene il dubbio che ci sia stata proprio la volontà di non interferire, di non disturbare, di non compromettere probabilmente i rapporti con Orban e quindi tutelare magari quei rapporti e non andare invece a tutelare i diritti di una cittadina italiana detenuta in catene, lo abbiamo visto ieri, in Ungheria e che sta subendo appunto delle violazioni probabilmente dei diritti umani. Possibile che sia questa la versione? Ma assolutamente no, mi viene da ridere perché solo a dirle queste cose qua viene da ridere. Quindi il tema è che è venuta fuori ieri questa cosa qua, con queste immagini che hanno colpito tutti e quindi immediatamente il governo si è attivato, tra l'altro so che appunto c'è stata un'iniziativa anche dell'ambasciatore con il Ministro Ungherese, insomma siamo alle solite, cioè l'opposizione è forte ad alzare i polveroni che poi si traducono come al solito. Sì, allora il direttore Cerasa, anche la dichiarazione di cui parlavamo prima del Presidente Larussa che diceva che ci sono anche dei casi non molto dissimili in Italia, insomma ci porta anche a fare una riflessione su quello che succede nel nostro paese, però andiamo un po' avanti con il ragionamento. L'obiettivo, lo dicevamo, è quello di ottenere i domiciliari in Italia in attesa dello svolgimento del processo. Fattibile secondo lei? Vedremo, io mi auguro, cioè il collega prima veniva da ridere, purtroppo a me viene da piangere, sono molto preoccupato, e come credo che siano preoccupati i cittadini italiani, dell'incapacità, del colpevole ritardo sul quale si è intervenuti su questa vicenda e quindi mi preoccupa qualora mai dovessero esserci altre vicende. Cioè io vorrei capire, il Ministro Tagliani in tutti questi mesi che cosa ha fatto sul tema? Perché è arrivato solo ieri quando tutti i telegiornali, abbiamo visto le immagini, tutto il mondo ha visto quelle immagini veramente vergognose, se ne sono accorti solamente ieri sera. Io questo veramente credo che non sia accettabile. quando sono state diffuse le immagini, questa è la ricostruzione giornalistica. Assolutamente sì, l'ha detto lui, in assoluta chiarezza e trasparenza. Quindi i rappresentanti dell'ambasciata che hanno partecipato alle altre tre udienze precedenti non hanno informato il Ministro, ci sta dicendo questo. Certo, l'ha detto lui, l'ha detto lui. E allora credo che ci sia qualche problema, insomma, se non siete capaci a governare e a rapportarvi con... Il tema è importante, cercare di trovare la soluzione. Per questo stiamo lavorando, tra l'altro voglio dire anche su questa favoletta che Orban sarebbe nostro alleato. Non è assolutamente vero. Orban non appartiene. È amico della Meloni. Ma la Meloni è amica di tutti, per fortuna, perché l'Italia sta contando in Europa. Noi prendiamo le distanze da personaggi come Orban. Perché in Europa abbiamo bisogno di tutti, perché purtroppo c'è anche... Pensasse la Meloni a fare gli interessi di un'italità. Tra l'altro Orban non avrebbe interessi di sovranisti. Né al Partito Popolare Europeo, né al Partito dei Conservatori Europei di Giorgio Meroni. Quindi, insomma, noi siamo sereni, andiamo avanti, lavoriamo e cerchiamo di risolvere i problemi come sono stati risolti tanti altri casi di nostri connazionali detenuti a partire da Patrick Zaghi, di cui abbiamo parlato lungamente in passato. Il primo ministro francese Attal ha detto che esiste e deve esistere un'eccezione agricola francese. Motivo per cui, dice, abbiamo dichiarato un'azione risoluta per la sovranità agricola del nostro paese. Allora, agricoltura e sovranità. La presidenza di turno dell'Unione Europea, che è ancora nel Belgio, sta valutando per giovedì di convocare una riunione straordinaria dei ministri europei dell'agricoltura per dare una risposta a queste mobilitazioni. Come va a finire questa storia? Allora, intanto io voglio esprimere la mia vicinanza ovviamente a tutti gli agricoltori italiani, anche perché avendo due suoceri oggi pensionati, ma che sono stati per quasi 40 anni agricoltori, coltivatori diretti, so benissimo quali sono i sacrifici che affrontano queste piccole imprese e tutti appunto i disastri che poi stanno subendo. Vediamo i cambiamenti climatici che ovviamente hanno una ricaduta negativa su tutto il settore, ma soprattutto qui direi il governo, anziché puntare continuamente il dito contro l'Europa, ogni tanto si assumesse le sue responsabilità. Perché voglio ricordare che nella scorsa legge di bilancio... Il governo italiano o europeo? Il governo italiano, il governo Meloni, la Meloni nella scorsa legge di bilancio ha cancellato praticamente delle misure che il Movimento 5 Stelle al governo aveva fatto proprio per tutti gli agricoltori italiani. Voglio citare solo alcuni esempi. Ha cancellato per esempio l'esenzione dell'IRPEF sui terreni agricoli per tutti gli agricoltori e questo valeva 250 milioni di euro. La motivazione era che privilegiava una parte... Ha cancellato 55 milioni di euro di agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli under 40 che decidevano di investire, di creare un'attività in agricoltura. Anche quello ha cancellato. Hanno cancellato di fatto il credito d'imposta, quindi anche qui agevolazioni fiscali per tutti gli agricoltori, i pescatori che potevano soffrire di queste agevolazioni fiscali e valevano dai 150 ai 200 milioni di euro ogni trimestre. Quindi come vedete qui siamo di fronte ad un governo che sta collezionando una serie di fallimenti e di tradimenti. Questo è il caso, diciamo l'ultimo, quello degli agricoltori che ovviamente poi scendono in piazza, però questo governo evidentemente fa orecchie da mercante e non comprende la protesta degli agricoltori ai quali esprimo ancora vicinanza. Che puntano però verso Bruxelles in questo momento i trattori? Ma no, io adesso la propaganda va bene perché ormai siamo abituati, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, però insomma io penso che quello che ha fatto questo governo per l'agricoltura, io sono anche tra l'altro nella Commissione Agricoltura, quindi insomma la vedo da vicino tutti i giorni, questa cosa è una cosa senza precedenti. Noi abbiamo ridefinito e ricontrattato il PNRR aggiungendo per l'agricoltura 4 miliardi di euro, 4 miliardi di euro rispetto al vecchio piano approvato dal vecchio governo. Abbiamo messo 200 milioni per le assicurazioni, abbiamo aumentato di 100 milioni il fondo per le calamità, non avete cancellato i 250 milioni di euro di agevolazioni IRPEF? Però le avete cancellate o no? Le domande le faccio io, eh? Noi abbiamo rimodulato alcune misure, abbiamo tra l'altro introdotto, per quanto riguarda la meccanizzazione agricola, la misura dell'industria 4.0 e 5.0 che farà recuperare il taglio dell'IRPEF che oggettivamente c'è stato. Abbiamo fatto la riforma dell'IRPEF, abbiamo mantenuto la assoggettabilità a reddito catastale per quanto riguarda gli agricoltori, cosa molto importante, soprattutto però la morale ci viene da un partito che ogni legge di bilancio, ogni legge di bilancio tentava di eliminare il gasolio agricolo. Siete voi, siete gli stessi e il gasolio agricolo per gli agricoltori è alla base della protesta degli agricoltori perché i verdi e i socialisti europei stanno teorizzando l'eliminazione dei sussidi e del gasolio agricolo. Il Movimento 5 Stelle, che 5 volte ha proposto nella nostra finanziaria 900 milioni di euro di taglio per il gasolio agricolo. E allora oggi ci fate la morale. E così non avete segnato le agevolazioni sull'IRPEF. Scusi, un attimo. Quindi che cosa chiedono al governo in questo momento gli agricoltori? Gli agricoltori chiedono al governo di sostenerli, come stiamo facendo, per evitare che l'Europa faccia dei danni gravi sulla base delle idee dei socialisti e dei verdi europei a cui si aggiunge sempre il Movimento 5 Stelle. Allora voglio andare dal direttore Cerasa. E su questo noi siamo in prima linea. E certo, avete aumentato anche l'abesina. Avete aumentato anche l'abesina. Non solo avete tolto le agevolazioni, l'avete pure aumentato. Fatemi andare dal direttore Cerasa perché Macron dice che è semplicissimo dare la cosa. Bene, mi sembra che l'argomento c'è tutto. Ci sono dieci giorni per discutere. Staremo ancora su questa emergenza, penso, per i prossimi giorni. Voglio ringraziare il direttore Cerasa, i nostri ospiti, il ministro Ciriani che c'è stato all'inizio. Voi per averci seguito ci vediamo domani sera.